Ioresto ha iniziato questa mattina un'azione di pulizia nella nostra città anche per invitare i giovani ad avere rispetto delle aree verdi. Un'azione di decoro urbano nel rispetto dei programmi che ha condiviso con tutta la cittadinanza l'associazione Ioresto. Ci teniamo a dire che si tratta di un'associazione né di un partito e non è collegata a nessun movimento o partito politico. E' un'iniziativa che parte proprio dal gruppo per voler sensibilizzare tutta la cittadinanza al recupero dei luoghi, farli rivivere e nel raccontare le loro storie. Che cosa avete trovato qui, questo parco? Allora innanzitutto dobbiamo ringraziare Acrea in quanto abbiamo inviato PEC sia al comune di Crotone che ad Acrea invitandoli e chiedendo insomma autorizzazione a vivere il parco e la risposta c'è stata. C'è stata in quanto nella giornata di ieri si Acrea e i suoi dipendenti sono venuti e hanno dato una grossa mano provvedendo a effettuare un riordino e pulizia del parco. Noi oggi siamo qui per continuare quel lavoro, per rendere il parco agibile e vivibile nella giornata di domani dove insieme ai ragazzi dell'Anna Frank racconteremo la storia del parco, racconteremo la storia dello stemma di Carlo V e di Don Pedro da Toledo e faremo vivere con musica, sport e cultura, rivivere il parco e darlo così in mano non solo alla città ma a tutti i cittadini del quartiere e di Crotone.